Bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Tutorial dedicato alle particelle in Adobe After Effects Prima di iniziare però voglio ringraziarvi perché siete oltre 15.000 a seguire questo canale YouTube Un piccolo numero che però per me è molto importante e che mi motiva e mi dà la forza di andare avanti con la produzione di altri tutorial Ricordo che per gli abbonati ci sono i tutorial avanzati, i corsi meglio ancora di Premiere Pro di After Effects e recentemente stiamo producendo anche il corso di editing audio con Audition Quindi per 3 euro al mese, 3 caffè che mi offrite, trovate appunto dei corsi completi che fanno probabilmente al caso vostro Se amate il mondo del video making Altrimenti ecco iscrivetevi a questo canale YouTube, grazie per averlo fatto e ci sono comunque ogni tanto dei tutorial aperti e disponibili per tutti quanti voi Come quello di oggi Oggi parliamo delle particelle Beh, diciamo intanto che il concetto di particella non è specifico di After Effects ma è specifico un po' nel mondo degli effetti speciali della computer grafica Con le particelle si possono creare effetti un po' più complessi, un po' più evoluti come per esempio il fuoco, il fumo, l'acqua o anche piccoli stormi di uccelli che volano e che compongono scritte in aria Quando vedete nei film tanti oggetti che tutti insieme poi si muovono e fanno qualcosa molto probabilmente sono stati realizzati con effetti particellari Oppure semplicemente cose astratte come queste scie luminose che potrebbero essere utilizzate per delle transizioni per esempio O anche ecco il classico esempio in cui vengono utilizzate le particelle per esempio sono il fuoco Il fuoco è l'esempio principe in cui le particelle vengono impiegate Oppure visto che siamo sotto periodo natalizio un altro bell'effetto che si può andare a creare con le particelle è quello di una nevicata Ecco il periodo è quello, la neve scende, scende, scende e poi piano piano si va a depositare in terra un prato per esempio che in origine era bello verde Quando viene coinvolto da una nevicata così importante piano piano diventa completamente bianco Quelle che vedete davanti a voi sono particelle che muovendosi soggette a forze per esempio la gravità Ecco interagiscono tra di loro o con l'ambiente circostante creando degli effetti molto interessanti Diciamolo subito con After Effects con i plugin che ci sono di default non è possibile fare grandi effetti Quello che state vedendo sì è stato realizzato con il plugin presente di default in After Effects Però cose più complesse purtroppo per voi e per noi richiedono plugin di terze parti che in qualche modo espandono le possibilità che sono già disponibili di default con After Effects Altre cose molto più complesse per esempio penso alla simulazione dei liquidi O di dinamiche molto più complesse richiedono invece software diversi da After Effects Penso a Houdini che è un software specifico per gli effetti speciali dinamici O Real Flow fantastico software specifico per esempio per l'animazione di liquidi O software diciamo veri e propri software 3D come possono essere il cinema 4D o Maya ancora ancora meglio Però ecco questo non vuol dire che noi con After non possiamo fare nulla Quello che state vedendo davanti a voi è stato fatto con il modulo di default di partenza Ecco delle particelle di After Effects Come si fa a creare delle particelle in After Effects? Beh la prima cosa è creare un solido quindi New Solid Scegliete il colore che preferite voi E' in influente Lo chiamiamo per esempio fuoco Ed ecco che abbiamo creato un solido Un consiglio quando create le composizioni per lavorare con le particelle Specie all'inizio non serve creare delle composizioni in 4k Ricordate che le particelle richiedono molte risorse al vostro computer Quindi soprattutto se siete alle prime armi non andate troppo in là con la risoluzione Tenetevi bassi 1280x720 vanno più che bene come valori iniziali per iniziare a giocare Ok? Creato il nostro solido Applichiamo l'effetto per creare la simulazione delle particelle Trovate il tutto dentro al menu simulazione tra gli effetti E troverete due tipi di particelle che potete utilizzare Particle System 2 o Particle World La differenza è che il primo è 2D e il secondo è 3D Vale a dire il primo può animare particelle solo sull'asse orizzontale e verticale Mentre il secondo effetto aggiunge anche la profondità Per creare il fuoco utilizziamo il primo Particle System 2 Eccolo qua Ma andiamo in play e questo è quello che abbiamo Una fontana di fuoco O meglio di scintille meglio ancora Ci sono pochi parametri a dir la verità con cui è possibile giocare con questa versione base del plugin La prima è la birth rate Ovvero la quantità di particelle che vengono prodotte ogni istante La longevity quindi quanti secondi deve durare una particella Vediamo intanto questi primi due valori Come dicevo la birth rate La quantità di particelle che vogliamo vengano prodotte in ogni istante nella nostra scena Mentre la longevity ci dice quanti secondi una particella può vivere Ecco se facciamo durare una particella a pochissimi istanti Vedete che le particelle nascono e muoiono immediatamente Se aumentiamo questo valore chiaramente le particelle hanno una vita un pochettino più lunga E' importante ricordare il concetto di vita di particella Quando parliamo di particelle in generale Perché una particella viene prodotta Quindi nasce, ha una sua evoluzione E poi muore Quindi ricordate nascita e morte Anche per le particelle sono fondamentali Vedremo tra un secondo perché Producer Producer è il produttore Dove vogliamo far nascere le nostre particelle? Nello specifico Questo che vedete qui è il producer Ok? Potrei far nascere le particelle in alto a sinistra Per esempio O le potrei far nascere in basso a sinistra Olè scusate In basso a destra dicevo Eccolo qua Ricordate che tutto può essere animabile Quindi se io faccio partire le mie particelle da qui Metto un keyframe Vado un pochettino avanti E porto questo producer in basso Vedete che le particelle vengono animate Il producer viene animato E anche il movimento del produttore In qualche modo influisce Sul modo in cui si muovono le particelle stesse Vedete? Ma torniamo indietro Per adesso rimaniamo semplici Riportiamo il nostro producer Al centro della nostra animazione La grandezza del nostro produttore Ha un raggio X e Y Di default è 3 e 3 Però io potrei far diventare questo produttore Molto più grande per esempio Come se fosse grande quasi quanto il nostro schermo Vedete che adesso le particelle vengono prodotte In questo cerchio Ok? Delimitato da questi due valori Posso anche farlo molto più piccolo 1 e 1 per esempio O anche posso dare un valore soltanto ad una dimensione Aumentare soltanto la dimensione Quindi se io espandessi soltanto l'asse X Vedrei le particelle prodursi praticamente lungo questo asse Ed è quello che potremmo volere per creare per esempio L'effetto di un fuoco Abbasso tutto Ed ecco che le particelle vengono prodotte Qui in basso Come se qui ci fosse un terreno per capirci Poi c'è la fisica che influenza le particelle Vale a dire come devono comportarsi le particelle Una volta che sono nate C'è la velocità La velocity Che diciamo indica la forza che hanno le particelle Una volta che sono nate La possibilità delle particelle di ereditare la velocity Per esempio dal movimento Ricordate che prima abbiamo mosso il nostro producer Ecco qui possiamo indicare se far influenzare il movimento delle particelle Dalla velocità del produttore oppure no La gravità La gravità sapete bene che cos'è no? Se io vado a vedere queste particelle Quando nascono poi cadono no? Perché sono soggette a una forza di gravità Potrei anche invertire la forza di gravità E portarla a meno uno per esempio E adesso le particelle appena sono nate O schizzano verso l'alto Ok? Vi do una brutta notizia Non ci sono dei valori standard per fare qualche cosa Purtroppo Nel senso che l'unico modo che avete per giocare con le particelle È sperimentare voi stessi e trovare un giusto compromesso Ok? Riportiamo tutto basso come era prima Abbiamo delle tipologie diverse di animazione Abbiamo la default che è l'explosion L'esplosione Abbiamo un fractal explosion Un twirl Un twirl Un twirl Un vortex Fire Direction Eccetera eccetera Per l'esempio Per esempio Del fuoco Proviamo fire No? Ecco Fire già Dà un'animazione Dà un'animazione alle nostre particelle Delle shaded sphere Delle sfere Più graduale Bubble Sono delle vere e proprie bolle Quindi più opache Al centro Più Scusate Trasparenti al centro Rispetto al punto esterno E altre tipologie Di Diciamo Di particelle Che adesso non andiamo a vedere una per una Ma che potete per esempio giocare Con cui potete tranquillamente giocare da voi Per vedere il tipo Diverso E differente di particelle Ecco questi sono dei cubi Che si muovono un po' come un fuoco Ondeggiano come un fuoco Però non sono il fuoco Per poter creare un fuoco Per esempio potremmo utilizzare E in generalmente Viene utilizzato Le faded sphere Le sfere Appunto Che abbiamo visto poc'anzi Perché utilizziamo questa tipologia di sphere Intanto aumentiamole Perché chiaramente È la tipologia Di Di particella Che più ci può aiutare A creare l'effetto Per esempio Di un fuoco Ok Adesso Andiamo a modificare Per esempio La grandezza Di queste particelle Perché noi abbiamo detto Prima Se ricordate bene Che una particella Ha una vita Nasce E poi muore Noi possiamo indicare Alla particella Appena nata Quanto deve essere grande E possiamo indicare Alla particella Quando sta per morire Quanto deve essere grande Bene Aumentiamo un po' La grandezza Della particella Quando si avvicina La sua fine Anche un po' Di colori Abbiamo un colore Per quando la particella Nasce In questo caso Giallo E un colore Per quando la particella Muore Per esempio Rosso Andiamo a dare Dei colori Un po' più simili A quelli che potrebbe Avere un fuoco Ok E utilizziamo Una sorta di Di valore Che indichi Come le particelle Devono comportarsi Quando si sovrappongono Cioè Se due particelle Sono una sopra l'altra Cosa deve succedere Ecco Impostando il valore Aggiungi I loro colori In qualche modo Si sommano E in questo modo Ne possiamo avere Un effetto Un po' più simile Per esempio Al nostro Fuoco Ora io avevo Creato In passato Ecco qui Questo effetto Di fuoco E avevo impostato Per esempio Questi valori Avevo dato Una velocity A 1 Avevo diminuito Di poco La gravità E sostanzialmente Sono andato a modificare Di poco La grandezza Delle particelle E anche qui Ho aggiunto Add Alle particelle Chiaramente Ho animato La birth rate Per fare in modo Che all'inizio Non ci sia Nessuna produzione Poi la produzione Aumenta E poi ritorna Ad essere zero E ho impostato Una vita Delle particelle Ad 1,4 Proviamo A reintrodurre Questi valori Anche in questa Nostra animazione Anche se Ripeto Purtroppo Non c'è una regola Ben precisa Quando lavoriamo Con le particelle La cosa migliore Che voi potete fare È sperimentare Voi stessi E cercare Il valore Che fa Al caso vostro Purtroppo Ripeto Non c'è Una regola Adatta A tutte A tutte Le situazioni Mi piacerebbe Dirvi di sì Ma Purtroppo Una regola Non c'è Precisa Ok Aumentiamo Ecco Non ricordo Che tipologia Di Ecco Anche qua Avevo utilizzato Delle Shaded Faded Sphere Fade out 85 Fire Come tipologia Di effetto Ok Dovremmo Più o meno Eserci simili Però ecco Se Dicevo Non c'è Purtroppo Una regola Precisa Per quanto Riguarda La Creazione Delle Particelle Perché Chiaramente Molto Dipende Dalla Situazione Da quello Che voi State Che voi State Creando Per esempio Nella Vecchia Animazione Questa Qui Il valore Di gravity Impostato A 0,9 Andava più Che bene In questa Animazione Probabilmente Devo abbassarlo A 0,5 Questo Per dirvi Che La cosa Migliore Che voi Potete Fare Quando Lavorate Con le Particelle E Sperimentare Assolutamente Sperimentare Quindi Produciamo 0 Andiamo Un po' Di Tempo Portiamolo A 100 E Poi Lo riportiamo Per esempio A 0 E Abbiamo Una Una Sorta Di Vampata Ok Potremmo Anche Aumentare Un po' Più La Velocità La Longevità Nelle particelle Portandola A 1,8 Secondi Vediamo Come Cambia E Questa La Parte Che Porta Via Più Tempo Quando Si Fanno Questo Tipo Di Simulazioni Vale a Dire Provare 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 E Vedere Le cose Come Cambiano Modificando I Valori Modifichiamo Per esempio La Velocity Vedete Modificando La Velocity Diminuendo Questo Valore Cambia Il Modo In Qui Le Particelle La Forza Che Le Particelle Hanno Durante La Nascita Ecco Per esempio Noto Che È Troppo Bianco Scompare Completamente Il Rosso Probabilmente Posso Andare A Modificare Un po' Il Colore Per Ridare Un pochettino Più Di Giallo Che Avevo Perso Con La Quantità Di Particelle Prodotte Come Per esempio Posso Dare Un pochettino Più Di Rosso Vivo Alle Particelle Ed Ecco Quello Che Abbiamo Creato Ok Si Può Fare Molto Meglio Ecco In Pochi Minuti Questo È Quello Che Abbiamo Che Abbiamo Creato Ok Ripeto Si Può Fare Molto Meglio Bisogna Perderci Un pochettino Di Tempo E Lavorare Un pochettino Con Con i Valori Ricordandoci Come vi Dicevo Che Non c'è Una Regola Ben Precisa Ma Bisogna Provare 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 Mi Fermo Qui Per Adesso Vi Ringrazio Per Partice Particelle 2D Ho Utilizzato Le Particelle 3D Quindi Particle No No Vediamo Un po' Sì 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 Ho Utilizzato Una Telecamera Anche Qui Sì Ho Utilizzato Particle World Che Mi Permette Di Utilizzare Anche Un Terreno Però Come Potete Vedere Che Più O Meno I Concetti Sono Gli Stessi C'è Un Bird Rate Una Longevity C'è Sempre Il Producer Che Però In Questo Caso Contempla Anche Un Asse Z Abbiamo Un Tipo Di Animazione Che In Questo Caso Invece Del Fire Ho Utilizzato Un Fractal Omni Anche Qui Come Ho Fatto Ho Semplicemente Sperimentato Non Ho Fatto Nulla Di Che Ho Utilizzato Le Shaded Sphere E Altri Valori Che Mi Hanno Permesso Poi Piano Piano Di Andare A Creare Questo Effetto Di Neve Che Scende Che Si Va Depositare Sul Terreno Però Magari Di Questo Ne Parleremo Meglio In Un Prossimo Video Tutorial Per Il Momento Vi Ringrazio Se Non Sapete Utilizzare Affle Effect Volete Seguire Il Corso Introduttivo Abbonatevi A Questo Canale Youtube Costa Solo 3 Euro Al Mese Tre Caffè Che Mi Offrite Al Mese Per Me È Importantissimo Per Andare Avanti Con Questo Progetto Oppure Iscrivetevi Commentate Condividete Mettete Like Partecipate A Questo Canale Youtube E Aiutatelo A Farlo Crescere Grazie 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 Al Prossimo Video Tutorial